Sì, parte! Sì, adesso lo fa andare a piano Dio che fregavano! Via che accelera! Vai! Che paralleli! Parallel! Parallel ti ricordi? Parallel! 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 Sotto il ponte di Verona Ecco la salita! Eh sì! E dopo c'è la discesa però! Oh, c'è vedere che vuoi che è traversa! Oh, riusa! Eeeh! Eeeh! Oh già! Ma che sforza tue! Eeeh! 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 Eeeeeh! Eeeh! Eeeh! 물어봐 la stampa! 창olo! Beh! Eeeh! ho l'impressione che andavamo più forte l'altra volta si vede che ha capito è un po' ricchioso mi fa malino il braccio immagino fa il sinistro non è ancora finita lo so ma perché dell'altra volta c'è 3 minuti di filmato siamo già a 3.20 siamo più lenti oh ciao ciao carium dai che siamo quasi arrivati ciao ciao è arrivato ma che bello grazie del passaggio cavallino ma è giusto ancora si però grazie si arrivo domani ancora ciao 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 grazie 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 grazie